Ora passano questi messaggi creditori, questi vicissi dati, queste cose passate, noi cerchiamo di essere seri e magari giusto uno è arrivato nella città e già finisce di fare il studeraggio, di fare i messaggi creditori, se ammettere adesso che ci deve essere anche una città seria, la ragione mettiamo via, insomma, è arrivato nella città, passano questi studeraggi e questi messaggi, noi ci vuole un messaggio serio, un messaggio di seri, come si deve, normale diciamo. Ehi, pirra, ah! Vabbè va, si se muzzo un messaggio, allora va! Allora, lo che qui miro, non si resta ori, io lo mandare alle in grillo, però se muzzo, ah! Vabbè, vabbè la gente che fa, vabbè me sta comando, ah!